Come scaricare gli audiolibri? Nel nostro caso, come scaricare gli audiolibri dal Club degli Audiolettori. Digitare www.audiolettori.it Scegliere Audiolibri in download Selezionare l'audiolibro scelto Nel nostro caso, il naso di Gogol, letto da Sandra Tedeschi. Aggiungere al carrello. Possiamo scegliere di pagare tramite Paypal. Anche se non siamo iscritti. Anche se non abbiamo un conto aperto con Paypal. Paga con carta. Compilare i campi E non importa registrarsi Ma cliccare su Continua Nel nostro caso, non importa pagare Perché il naso è gratuito Per tutti i soci del Club degli Audiolettori Basta iscriversi sul sito O rientrare con il proprio indirizzo mail E la password Procedi con il check-out Accetto senza riserve Le condizioni di vendita generali Procedi con il check-out È arrivata una mail Ed ecco la nostra mail Clicchiamo sul file 038.zip Che è un file compresso E lo salviamo in una cartella a nostra scelta Ed ecco il nostro file salvato 038.zip Quindi È un file compresso Tasto destro Estrai tutto Scegliamo la cartella In questo caso Io ho nominato una cartella Audiolibro il naso Selezione cartella Estrai Ed ecco Il nostro audiolibro estratto Abbiamo le tracce Le possiamo ascoltare sul computer Oppure selezionarle tutte Tasto destro Copiarle Ed incollarle In un'altra cartella Sul nostro cellulare Sul nostro lettore mp3 Su un cd Insomma Dove preferite Buonasera Grazie 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 a tutti E Fermi